Tra mai arrivare qui perché l'iponichio sarà se no più lungo, taglio, esce sangue, stress, trauma sul suo letto, quindi la sua unghia per lei questa è corta, noi la vediamo lunga ma lei perché ha un letto importante, quindi è corta rispettando le sue proporzioni, quindi lei qui è onicofagica. Ok, cosa voglio dire che posso avere la tua, è uguale alla sua, solo che lei ha letto un goiale più lungo e invece è più corto. Ok, quindi devo rispettare l'iponichio che ho sotto, questa pelle la devo rispettare, quindi per lei arriverà qui, per lei arriverà un pochino di più. Ok, ma il bordo libero lo devo sempre avere fuori, di protezione per questa zona dell'iponichio, se no parliamo di onicofagia o di traumi importanti come ha preso lei. Ok, poi a Martina chiederò il tipo di lavoro e l'ho chiesto, quindi già non va a sottoporre comunque uno stress continuo alle mani, però ce l'ha anche in bella vista, quindi per me potrebbe essere anche un'ottima pubblicità e quindi le dovrò fare perfette. Ok, la dovrò educare a portare delle unghie perfette. Porti sempre semipermanenti o hai fatto ricostruzioni? Anche ricostruzioni. Ok, come ti sei trovata con la ricostruzione? Benissimo, acrilico però. Acrilico, sì. Perché hai scelto acrilico? Perché ti piaceva o perché... No, inizialmente facevo il gel, poi ho cambiato con l'acrilico perché il gel mi si crepava facilmente, mi resisteva poco. Perfetto, sì. Ok, quindi verificare il tipo di lavoro, un lavoro dove il trauma è continuo, quindi c'è bisogno di uno strong, ok? Quindi l'acrilico in questo modo segue un pochino di più il suo lavoro, ok? Sei sposata, hai figli? No. Accertarsi anche di questo, più che altro per le lunghezze. Perché già, una mamma potrebbe andare in pazienza e ve lo posso assicurare. Va in stress, va in stress. Io sono passata da uno square, bella puntita, delle rotondità molto... Sì, anch'io, che con le bambine piccole non te lo puoi perdere. No, 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 no. Le sfregi? Grazie. No, a parte che fai in ansia proprio, cioè... Io anche col cagnolino, scusate, se lo prendo in braccio... Au, 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 mi guardo così. No, no, è vero, comunque c'è da fare attenzione. Ok, anche se la sua tipologia di unghie, analizzandola, è abbastanza striata. Le striature, normalmente, leggere, così, superficiali, stanno... Io adesso sto analizzando queste due, ma le dovrei analizzare tutte. Sono leggermente sindrome di alimentazione non adeguata. Vuol dire che non mangia i nutrienti giusti di cui le ha di bisogno. E quindi si denota e si manifestano, naturalmente, sulla lamina con queste piccole striature. Se noi le andiamo a vedere, gran parte di noi avranno queste striature superficiali. Perché l'alimentazione, chi più, chi meno, ma ce l'abbiamo tutte con i nutrienti sbagliati. E quindi dovremmo lavorarci un pochino di più. Però non ci interessa dare un consiglio di tipo alimentare, eccetera. A noi serve lavorare e eliminare il problema. Se fa la ricostruzione, preparazione, allungamento e non si vede. Se fa la manicure, cosa succede? Che se io non vado a levigare queste piccole striature, lo smalto poi mi verrà un po' striato. Ok? Alcune volte le possiamo trovare in verticale, alcune volte le possiamo trovare in orizzontale. E quindi le dovrò un pochino levigare. Ed ecco qui che la 2,40 è un pochino importante. Poi non abbiamo macchie particolari. Notiamo un pochino di staccamento qui della lamina, i paralleli. Con la ricostruzione in questo caso diventerà un ottimo metodo correttivo per i suoi paralleli. Ma se ci dobbiamo occupare di semipermanente, facciamo una mani più tradizionale. Quindi anch'io la otterei, gli consiglierei una ricostruzione. Proprio per andare a fare il lavoro di abbellimento del parallelo e della correzione della lamina. In maniera tale che mi andrà un pochino più dritta. Perché se noi andiamo a vedere anche di lato, c'è proprio questa forma abbombata e poi tende un pochino in giù. Se la mia cliente vuole, se la mia cliente dice, no, voglio lavorare solo con il semipermanente. La mano è da semipermanente, perfetta. Ok? Quindi non voglio ricostruzione, non voglio un peso maggiore sulla lamina, eccetera. Ben meglio hanno tutte unghie così curate. Ok? Per i semipermanenti. Il mio obiettivo in questo caso è rieducare un pochino lei e portarla naturalmente sullo stesso modo. livello. È ovvio che le altre, come abbiamo visto, non le possiamo fare così corte, però un pochino più corte le dobbiamo fare. Perché lei è molto corta. Ok, sanitizziamo. Facciamo togliere anelli, bracciali. Se ne abbiamo. Ok, la piccola intervista l'abbiamo fatta. Va bene per il semipermanente? Sì, sì. Nelena vuole optare per una ricostruzione. Io do sempre l'opzione. L'opzione. Perché lei che deve decidere. O se no, viene e dice facciamo il semipermanente. Sì, ok. Iniziamo a fare il semipermanente. Vi spiego tutti gli staff del semipermanente. E poi gli dico, guardi, se vuole però, vuole correggere un po' i paralleli, un po' la sua forma di lunga, Io una Tantum di ricostruzione la farei. E inviterei l'informazione. Poi, è lei la scelta. Il semipermanente. Ecco. Ciao Antone. Buongiorno a tutti. Solo per avvisarvi, più tardi vi faccio sapere. Perché sto aspettando anche le colleghe che... Ecco, Martina aveva un problema. Io ero venuta giù perché non mi danno la possibilità al lavoro di attaccare ancora più tardi. Ok. E quindi non potrei esserci fino alle due. Perché io quando esco a luna qua vado diretta. Sì, sì, me l'aveva detto. Va bene, allora poi parliamo un attimo. Tanto mi devono confermare anche gli altri. Va bene? Le fotocopie le ho fatte. La fotocopiatrice mi ha detto ok. Le abbiamo fatte. La fotocopiatrice ha detto ok. Ok, aria cuticole. Se ha lo smalto naturalmente poi ce l'è mora e viene mosso. E questo è smalto tradizionale o a semi permanente. Ah, ok. Poi vediamo allora anche lo smontaggio del semi permanente. Come si rimuove lo smalto? Polish remover, dischettino di cotone in questo caso per la rimozione dello smalto. Appoggiate. Fate agire in mezzo minutino e togliete. Ah, non tanto. Lo smalto tradizionale. Ah, lo smalto tradizionale. Ok, sì, sì, sì. Si lascia un male sul dito. Sì, sì, sì. Lo appoggiate, lo fate agire un minutino, mezzo minutino e togliete. Ok. Poi con la parte pulita del cotone, se avete un po' sporcato i contorni, lo pulite. Se fate così più volte, rischiate di portare il colore tutto insieme. Il semi permanente invece ve lo devo far vedere. Il propusher, o prima limo e poi propusher indifferente, il propusher è uno strumento in acciaio formato da un cucchiaio e un coltellino. Il cucchiaio ha il potere, attraverso le vostre mani, non da solo, di sollevare e di staccare tutto quello che cresce sulla lamina. Martina, già. È pulita? Sì, non è nulla. Il coltellino mi permette di grattare e eliminare l'eccesso. Grattare con dolcezza. Sì, un po' però lo devo fare. Non devo creare un tron. Bene i contorni, non fate solo il centro. Quindi a catena farò tutti i cucchiai, poi il coltello, tutto il coltello. Coltello si usa proprio comunque la patata, eh ragazzi. Sì, su questo siamo... Ci siamo su questo? Ci siamo, sì. E il cucchiaio per sollevare. Passaggio successivo, lima 240 o 180 o la lima di acciaio. Posso un attimo, Tatiana, scusami. L'acciaio, eh. Questa è quella di... Diamante. Diamante. Poi si può spazzolare, disinfettare e sterilizzare. Ok? Con questa in un solo senso, l'impugnatura è così. Però lo stesso posso fare con la 180. O lo stesso con la 240, se l'unghia è più morbida. Nel suo caso è bella spessa, quindi la 180 scelta. Va bene. Mantengo la forma, va bene? Sì. L'accorcio solo leggermente. Quindi, in un solo senso, tenete parallelo, giro da qua. Questo mi permette di andare perfettamente dritta, nei suoi paralleli. Ok, ho accorciato un po'. Con la spongia adesso, 2,40, mi andrò un po' a ritenire la punta. Naturalmente do tutta la forma su tutte e dieci. C'è sì. Non prima tutta la forma? Sì. Square. Allora, square, lima dritta. Così. Se la devo stondare, non faccio nient'altro che inclinare leggermente in un solo senso, tolgo gli angoli e diventata rotonda. Ok? Ok? Limatura superficie. Con la spongia, ecco la più morbida. 2,40. Mi faccio tutto il giro, il contorno delle cuticole, con la forma a ventaglio, l'impugnatura a ventaglio, l'impugnatura a sigaretta e l'impugnatura con l'indice dietro. E poi a sigaretta un po' tutta la superficie, sempre in un solo senso e sempre al centro, in direzione centro. Se faccio così non succede niente. questo su tutte e dieci. Passaggio successivo, spazzolo, dall'aria cuticola verso il bambino libero, vedete la polvere che ho generato, se li rimuovo bene, andrò a passare un pochino di sguardo, o con lo spazzolino, o in questo caso con un dischetto di carta. Ma no, cotone. Curisco, curisco. Fatto questo su tutti e dieci, faccio una piccola verifica se l'unghia graffia. Di solito gliela faccio provare. Puoi provare qui un attimo? Ecco, ok, non lascia i segni. Se lascia il segno bianco, niente panico. E sotto fate così, fate fare un po' la gattina, dico io. Ma totale che non gli lascia il segno e non graffia. Ok, se no lei sta tutto il giorno con la sensazione di questo segno che graffia. Ok? È pronta, opaca, disidratata, pulita, disinfettata. Vado allo step successivo. Proteico, Protein Bond, è un ottimizzatore di adesione, non acido. Quindi è un protettivo delle unghie, serve a dare nutrimento e protezione. Per la ricostruzione, quindi quando devo fare l'estensione, è fondamentale usarlo su tutta la superficie anche due volte. Quando faccio il semipermanente, facoltativo usarlo, o anche quando faccio l'applicazione dello smalto tradizionale, facoltativo farlo e se lo faccio solo sul bordo libero, che è la parte dove il semipermanente si può sbeccare un pochino di più. Se va a finire sulla pelle, non vi dovete preoccupare. Se ho problemi che invece il semipermanente non li tiene, nel suo caso ha delle unghie striate, quindi non ho di questi problemi. Però se ho un'unghia molto grassa, magari la potete anche passare su tutta la lamina e nessuno ve lo impedisce. Cosa succede? Se io su dire lo passo su tutta la lamina, poi lo smontaggio tra 20 giorni mi rimarrà un po' più difficile. Ok? No, ci fermiamo qua per il momento. Vi diamo la preparazione e poi andiamo con l'applicazione del colo. Ok? Ok? Prego, manicure asciutta.